Ieri in campo anche il volley con i quarti di finale play-off, gara 1 trionfale per Modena che al Palapanini ha battuto 3-0 Milano con parziali di 25-13, 25-22, 25-23. Successo netto quello dei giallo-blu trascinati dai 17 punti di Leal, dai 16 di Ingapette e dai 14 del rientrante Nimir. Gara 2 domenica 3 aprile con un altro successo Modena in semifinale, sabato invece la sconfitta di Piacenza superata in gara 1 da Trento, anche in questo caso con il punteggio di 3-0.